è una giovane atleta della nazionale italiana di scherma che ama anche la danza nell'arte della spada e fra le prime al mondo ben arrivata natalie melhausen grazie per l'invito dal cognome capiamo subito che lei ha un papà tedesco so che ha una mamma brasiliana e che è nata a milano e ha 25 anni vorrei sapere in che lingua parlate a casa italiano mi capita di parlare con mia nonna soprattutto in portoghese però al tedesco non lo parlo e ancora in tempo per impararlo sono ancora in tempo per imparare lei si allena fra milano e parigi allena e studia e lo vedremo vorrei far subito vedere ai nostri telespettatori un brevissimo filmato di una cosa che è stata proiettata a new york in una galleria d'arte e che la riguarda direttamente l'unica protagonista l'unica protagonista ma Grazie a tutti. La spada ballerina abbiamo proprio intitolato questo incontro. Che cosa voleva far vedere con quelle mosse a metà fra lo sport e la danza? In realtà questo video in particolare è nato da una collaborazione tra me e un giovane artista inglese, Jacob Sutton, di fama internazionale, il quale mi ha contattata direttamente per creare un video art basato sullo studio anatomico del corpo di uno schermidore in movimento. Infatti si è nota nel video che ci sono movimenti in slow motion che mostrano proprio i dettagli di quello che è la successione progressiva del movimento schermistico. E quindi c'è stato questo incontro tra, più che danza, questa volta si è trattato veramente di un'interazione tra la mia performance fisica come schermitrice e l'occhio della telecamera che lo studia, lo indaga. Facciamo un passo indietro. Perché la scherma, visto che dalle cose che ho letto su di lei, non ci sono parenti o amici in famiglia che abbiano praticato questo sport? A me piace pensare che sia stato un po' il destino. Ho iniziato quando avevo 5 anni e secondo me non hai una vera consapevolezza delle tue scelte in quel momento. C'era questo sport da scegliere a scuola e io ho deciso di scegliere la scherma. Perché la spada e non il fioretto o la sciabola? Anche lì è stato un po' il destino, nel senso che ho incontrato fino a 9 anni, ho fatto fioretto che è l'età obbligatoria e poi a 9 anni ho incontrato questo maestro polacco, Pomarnaschi, il quale mi ha iniziato la spada e da lì mi sono appassionata. Non è più tornata indietro? Non sono più tornata indietro. Tirare di spada è come fare una partita a scacchi, ha detto. Non so se lei sappia giocare a scacchi, ma... No, tra l'altro. Scaccomato però in tirà che cosa vuol dire? Ecco, per dare scaccomato all'avversario che cosa bisogna fare con la spada? Appunto, quello che credo io è che l'avversario ha un problema matematico, se vuole da risolvere bisogna trovare una soluzione e nel momento in cui trovi la soluzione più veloce la trovi, non veramente più veloce, abbiamo dei tempi nel quale dobbiamo trovare una soluzione. Se trovi questa soluzione vinci, se la trovi prima l'avversario vince lui. Soluzione definitiva, ahimè. Soluzione definitiva. Non usi la soluzione definitiva nei miei confronti, le chiedo però di prendere la spada che ha portato con sé e di farci vedere almeno come si impugna. Sì, questa qua è un'impugnatura francese, esistono due impugnature nella spada che sono quella francese e quella anatomica che ha una forma che assomiglia un po' a una pistola e si impugna in questa maniera. Tra l'altro da questo deduco che lei sia mancina, quindi parte in qualche modo avvantaggiata nel suo sport. Eh, dicono di sì. Senta, la sua prima gara, anche da bambina, la prima gara proprio che ha fatto in questa disciplina, se la ricorda? Qual è la cosa che le più rimaste impressa di quell'inizio? Sì, me la ricordo, la mia primissima gara fu nella mia scuola al collegio delle fanciulle a Milano e vinsi quella gara contro un ragazzino e mi ricordo che quando mi dedono la medaglia a corsi da mia madre le dissi ma adesso qual è lo step successivo, qual è la prossima gara e iniziarono a spiegarmi un po' quali erano i prossimi traguardi. Nonostante l'età, lei ha già collezionato tre ori, un argento e due bronzi fra mondiali europei e giochi del Mediterraneo, oltre al fresco bottino del mondiale di Catania che è un bronzo a squadre. Qual è il segreto della vittoria? Impegno, pazienza, avere il momento giusto per infilare un colpo d'arte, qual è il segreto della vittoria? Ancora lo devo scoprire in totale, penso che sia un processo lento, lungo e sicuramente la pazienza è importante, penso che il vero segreto della vittoria sia anche nel, è un insieme di lavoro e allo stesso tempo attitudine in campo dove trovi la tua arte, la esprimi e la esprimi nel migliore dei modi, ecco questo penso. La medaglia che lei è più cara e non mi dica la prossima perché è naturale? La medaglia che mi è più cara, che mi è costata più cara se direi, è stata quella di Parigi, il bronzo di Parigi nel 2010 individuale. E dalle prossime Olimpiadi di Londra che cosa si aspetta? Innanzitutto la qualifica si concluderà nel mese di marzo e quindi ci sono ancora quattro gare in ballo importanti per la nostra qualifica, in questo momento abbiamo un piede dentro e quindi per il momento l'obiettivo è concludere questa qualifica. Andarci, certo. Quindi poi tutto il resto. Quanto si allena in una giornata e che tipo di allenamento fa? Tra l'altro ricordando anche che aviere capo dell'aeronautica militare, quindi insomma ha molte cose in ballo. Sì, che mi sostengono. Fa parte del gruppo sportivo, giusto? Del gruppo sportivo dell'aeronautica militare, esatto. E grazie al loro sostegno mi è consentito di praticare questo sport a livello professionale, come se fosse veramente la mia attività principale. Ma la giornata com'è? La giornata consiste in una media, dipende dai periodi poi, lontano dalle gare, dalle 5 alle 6 ore al giorno, poi dipende. C'è una variante di 5 ore al giorno e consiste nell'aspetto tecnico, nella preparazione tecnica, quindi scherma, lezioni, assalti e poi preparazione atletica e poi anche preparazione mentale da un po' di tempo. Nel senso che c'è anche uno psicologo che la segue? Esistono, sì, sì, appunto nel mio caso sì. Alla vigilia di una gara, e per vigilia intendo poche ore prima o pochi minuti prima, c'è un rito a cui non rinuncia mai? Sì, ho le mie scaramanzie, ho i miei collanini e braccialetti portafortuna, ho una collezione in realtà potrei dire, e prima della gara, la vigilia della gara, se si può considerare preparazione mentale, mi concentro molto sul visualizzare quello che sono i miei obiettivi per il giorno seguente. Il sacrificio invece che più le pesa, dovendo fare questo sport certamente pieno di soddisfazione e stimolante, ma molto anche duro di giorno in giorno, qual è il sacrificio che più le pesa? Forse a volte il sacrificio più duro è stare lontani dalla famiglia, questo è l'aspetto più duro, però se no faccio veramente fatica a parlare di sacrificio, perché mi considero fortunata per fare quello che amo. Viva la sincerità, adesso vediamo un altro filmato in cui in qualche modo si associano il duello e il tango. Viva la sincerità, adesso vediamo un altro filmato in cui in qualche modo si associano il nostro canale, ha interpretato il libertango di Piazzolla, ma la spada le dà libertà? Totale, assolutamente. Dipende, c'è da dire che in effetti in gara esistono dei codici di gara che ti impediscono di dare completamente libertà alla tua arte. Per la salvaguardia di tutte voi. Esatto, è per questo che poi ho indirizzato la spada anche nel campo dell'arte dove sei più libero. Oltre che atleta, lei ama mescolare non solo con il tango, ma anche con la pittura, con la moda, la sua arte sportiva, ma non ci può essere contrasto fra la dolcezza delle arti in genere e la durezza di uno sport come quello della spada? Io trovo che sia un'apparenza la durezza, perché secondo me invece il segreto della nostra arte, che è la spada, è proprio quello di trovare un equilibrio, un'armonia con se stessi. Per quello che io sempre l'ho sempre associata alla danza, perché nel momento in cui tu sei armonioso con lo spazio, con te stesso, con quello che è la tua espressione corporale, diventa automaticamente dolce, bello, esteticamente. Da atleta so che ha sfilato anche a Firenze. Le analogie fra la passerella e la pedana quali sono? Le analogie? Beh, forse la sensazione di entrare sul palco, che è molto simile, quella specie di adrenalina che ti sale poco prima, soltanto che l'unico svantaggio è che gli portavo i tacchi, non ero assolutamente capace di camminarci, quindi ero più tesa, posso dire. Ma le è piaciuto o lo fa solo per gioco, diciamo così? Può essere una strada? Per gioco, direi che è stata una bella esperienza, però non può essere una professione per me. A proposito di divertimento, cito una recente sua intervista a Panorama, in cui lei a un certo momento racconta quello che fate quando andate in giro per il mondo, per i tornei. E l'esempio di Cuba, l'ultima volta un amico fotografo mi ha portato al Gran Teatro dell'Havana a vedere il Lago dei Cigni. C'era tutta la nomenclatura del Partito Comunista vestita come negli anni 50. Mi sembrava di essere Pretty Woman. Ma i nostri politici, i politici italiani, vestono meglio dei politici cubani? Lei che è il gusto dell'arte? Io più che esprimermi da punto di vista, più che esprime la mia opinione politica... Estetica, non le chiedono prima politica? Estetica, estetica, sicuramente l'Italia ha un gusto che secondo me non ha... Inarrivabile, no? Inarrivabile, sì. So che studia anche filosofia alla Sorbona, mi chiedo come farà, dati tutti gli impegni che lei ha, ma che rapporto ha trovato fra la riflessione sulla vita e la stoccata della vita, quale spesso diventa in una gara, stiamo parlando di sport naturalmente, quella a cui lei è chiamata? Beh, io penso che in generale sia importante avere una filosofia di vita, che è quello che poi ti porta anche a trionfare in quello che fai, ad avere successo. Quindi dal mio punto di vista penso che sia assolutamente importante continuare nella strada in cui uno crede. La stoccata è sempre lì dietro l'angolo, la puoi ricevere come metterla. Secondo me l'importante è andare avanti, crederci e poi prima o poi dicono che la stoccata più importante è l'ultima, non la prima, quindi... Ho scoperto tra l'altro che il suo filosofo preferito è papà. Lei in un'intervista dice è il mio filosofo di riferimento, in un'intervista a io donna. Qual è la lezione più importante che il papà filosofo le ha dato? Eh, mio padre mi ha sempre appunto insegnato a credere nei miei sogni e questo penso che sia importante, è una grande forza che dà un genitore. Perché i suoi amici la chiamano svamp? Perché ho spesso la testa tra le nuvole e quindi probabilmente ci tengo anche molto all'aspetto estetico, lo stile, quindi il connubio tra vamp e svampita è legato a questa cosa, una vamp un po' svampita. L'importante è non avere la testa tra le nuvole quando gareggia. Eh, infatti io rispondo sempre che la ragione per cui ho la testa tra le nuvole in tutto il resto è perché sono troppo concentrato in quello che faccio. È arrivato il momento del mappamondo che è il rito conclusivo del programma, la scenografia virtuale ci aiuta a continuare a sognare anche nel concreto, nel concreto di questo studio. Dove vorrebbe andare e per vedere che cosa o per incontrare magari una persona? Mi piacerebbe andare in Mongolia. Come mai proprio così lontano? Sulle tracce di Gengis Khan direi, mi è capitato di vedere di recente il suo film, la sua storia e sono affascinata da quel paese, davvero mi piacerebbe molto. Invece la sua prossima affermata intesa in qualche modo come il traguardo importante che lei coltiva, qual è? Le Olimpiadi di Londra 2012. Padre tedesco, madre brasiliana, da italiana del mondo si sente più a suo agio, a casa sua, in Germania o in Brasile? In Italia. Grazie dell'incontro e buon viaggio. Grazie. Grazie.